Ciao a tutti, piccolo aggiornamento del giorno 1. Era da un po' che i miei ragazzi qua, i miei 17 ragazzi non mi mandavano notifiche, il che l'ho trovato molto strano. Infatti sono andata a guardare e stanno tutti dormendo, fatto che a me è sembrato strano perché li ho programmati, cioè ho scelto l'opzione per farli andare a dormire a mezzanotte e poi si sveglieranno domani mattina alle 11. Però essendo al loro primo giorno ed essendo bebè non l'ho trovato poi così strano, ripensandoci. Sono tutti molto molto dolci quando dormono, cioè trovo che l'animazione dei Dinky Pet in generale, cioè quelli originali, sia quelli originali sia il widget, sia molto molto tenera come animazione. Guardate per esempio, il cane è adorabile, l'orso, lo squalo mi fa troppo ridere, come si schiaccia a terra. Ho spostato lo squalo da questa schermata a questa perché mi sembrava più logico, almeno dal mio punto di vista, avere tre animali carnivori insieme e due erbivori insieme. Per cui qua abbiamo il cervo, che forse penso sia il mio preferito in assoluto. Che poverino, nel video precedente l'ho confuso con una giraffa, infatti ricorda un po' una giraffa, pensandoci bene. Vabbè, sarà il famoso cervo giraffa, che è un cervo col collo molto lungo, che vive in Africa, notoriamente in Africa. La smetto di dire stupidate, andiamo all'ultimo, che è l'elefante. Perché anche lui non si capisce bene se ha una bocca o una proboscide lì mentre dorme. Comunque, ci tenevo a farvi vedere le animazioni di quando dormono, soprattutto di quando sono bebè, perché avendo già avuto l'esperienza con i dinosauri, con l'unico dinosauro che finora ho allevato, sono troppo teneri, li adoro. Ecco, tre minuti di video quasi per dirvi questo. Per cui, grazie ancora per l'attenzione, buonanotte, buongiorno, qualsiasi sia l'ora in cui state vedendo questo video. Grazie.